Allora ragazzi, come promesso vi faccio l'unboxing, non mi faccio vedere in questo video, tanto vi faccio vedere soltanto che cosa ci è arrivato e questa qui che vedete è una copia anteprima che ci ha fornito il nostro negozio sponsor, il gioco Libreria Semola che tra l'altro ringrazio e lo trovate sempre nel primo link in descrizione e in sovraimpressione, grazie di cuore Corrado Non soltanto ci è arrivato questa copia in anteprima di Indomitus, che ora poi vi vado a far vedere cosa c'è dentro ricordo set base della nuova edizione di Warhammer, con dentro Ultramarine e Necron, ma ci hanno mandato anche un po' di gadget sempre ovviamente tutta quanta roba durante il pre-order della gioco Libreria Semola, che è un posterino, quindi anche un bel poster da appendere ci hanno mandato una bustina con delle cartoline di Warhammer 40.000, 5 cartoline in tutto, che riprendono ovviamente gli Ultramarine nel nuovo capitolo che sapete sono i primaris risvegliati dal Primarca, direttamente dal seme di Robot Gilliman sul pianeta Marte dal Deptus Mechanicus e poi dentro ci sono anche cartoline dei Necron, ce n'è 5 in tutto poi ci sono due spillette piccoline, una che fanno vedere i nuovi Ultramarine in armatura Mark 10 e di qua i nuovi Necron, che ragazzi i nuovi Necron per me sono la cosa più bella di questa nuova edizione una carta primo nella mischia, un braccialetto nero di Warhammer 40.000, guardate bellino, anche questo, in gomma e di qua c'è una spilla col nuovo logo di Warhammer 40.000, la vedete con le due reghette rosse del nuovo logo poi qua sotto, spostando un pochino di roba, qua sotto vedete c'è un librettino che si chiama Cosa rende grande la nuova edizione e qua su sono raffigurati ovviamente, qui vedete, Robot Gilliman, il Primarca degli Ultramarine e questo di qua non so se Abaddon, scusate l'ignoranza, non penso sia Horus, a tempi dell'Emperatore e comunque è un librettino con dentro anche delle belle immagini molto fumettistiche perché la GV sta puntando anche a fare dei fumetti propri per tirare fuori dei fumetti direttamente di Warhammer, della loro ammettazione di Warhammer 40.000 e sono veramente veramente stupendi e guardate qua quanta roba c'è dentro, tra l'altro i disegni sono molto carini, molto simpatici quindi è un libretto alla fin fine per tutti e non a caso si vede che la GV sta cercando e sta pensando di portare Warhammer anche ai più piccoli, che secondo me è una bella trovata invece che tenerli a giocare al computer tutto il giorno e qui poi vedete il librettino che ci fa vedere Indomitus con l'ultramarine che ora addirittura gli danno anche la spada potenziata e lo scudo confezione del gioco che è bella grande, guardate la mano rispetto alla scatola bella grande con il nuovo logo della Games Workshop di Warhammer e guardate è bellissima, la confezione è veramente spettacolare ragazzi vi ricordo che è in tiratura limitata questa confezione una volta finite le copie, classico della GV come tutti i loro giochi non la faranno più quindi questo set base è a tiratura limitata, ora vi faccio vedere cosa c'è dentro e vi ricordo il link in descrizione, lo vedete anche in sovraimpressione ordinatelo dal sito Gioco Libreria Semola perché i pre-order sono aperti mi ha detto Corrado fino a esaurimento a scorte quindi fino a che c'è in stock al momento che l'ha finiti non sarà più possibile fare il pre-order quindi ordinatelo che lo pagate, il costo base è 155 euro però spedizioni gratis in tutto il mondo, non in Italia, non in Europa, in tutto il mondo e in più col codice sconto Coridan7 usato come codice discount avrete lo sconto del 7% quindi ragazzi mi raccomando, ma tanto lo trovate tutto in descrizione apriamo un posterino, qualcosa insomma, un cartonato protettivo sopra che tra l'altro è un po' scuro come colorazione ma comunque è molto bello anche da appendere alla parete e qui impazzite, fanatici della GV di Urammer 40.000 gli sprue con attaccati tutti quanti i nuovi pezzi le moto, già qui vediamo tra l'altro le nuove moto che hanno fatto degli ultramarine, degli space marine mi guardano a morire perché mi ricordano molto la moto di Akira se vi ricordate hanno proprio cambiato lo stile addirittura i cannoncini sono messi sul fronte, vedete binati, quindi sono due requin binati messi davanti con questa specie di griglia protettiva sopra che non vedo l'ora, vi giuro di farvele vedere montati e magari farci anche qualche video di pittura e poi ci sono le spade a catena, le zaini e tutto il resto dei pezzi da quello che ho visto armi da fuoco ce n'è meno non poche ma ce n'è la metà rispetto a prima perché la GV vuole portare Urammer 40.000 un po' più sul corpo a corpo rispetto a che sul gioco dalla distanza infatti vedete ci sono molte più spade, scudi e cose del genere scusatemi ancora una volta ragazzi se sentite un ventilatore ma d'estate purtroppo c'è un cardo disumano qui e ora arriva la parte bella, vi giuro, vi giuro Morissi ora più delle miniature a me interessano i manuali della nave edizione intanto vediamo il nuovo logo e c'è dentro il manuale i confini del silenzio che ho visto all'interno di questo manuale qui a parte vi fa vedere come montarli, vi fa vedere come colorare le cose del genere ma soprattutto visto che ci sono anche le caratteristiche direttamente delle unità che troveremo all'interno del gioco ma il pezzo forte arriva ora e arriva una bomba ragazzi una bomba veramente di manuale guardate qui quante... ora vi faccio vedere soltanto la copertina la colorazione e tutto quanto il libro base delle regole della nuova edizione di Urammer 40.000 guardate quanto cavolo è grande dal lato bellino c'è anche il segnalibro guardate quanto cavolo è grande e questo regolamento ragazzi c'ha la bellezza di 170 pagine di lore 170 pagine di ambientazione perché l'ambientazione della nuova edizione di Urammer 40.000 cambia un po' quindi vi dovete aggiornare 170 pagine di ambientazione io avrei comprato la scatola base anche solo per questo ve lo giuro e al suo interno intanto vedete è relegato veramente da paura bello un cartonato spesso bello da morire e guardate là i disegni che ci sono dentro guardate i disegni e le nuove miniature che ci sono nella nuova edizione di Urammer 40.000 guardatela ragazzi cioè questo è qualcosa di disumano e come vi ho detto fa addirittura 170 pagine di ambientazione e ci va a descrivere tutto vedete la Death Watch che tra l'altro sono i miei preferiti i Grey Knights, i Cavaliari Grigi le armate dell'Imperium tra l'altro le ha dette Sororitas non a caso mia moglie sta rosicando gli Dei Oscuri che ve li ricordate Nargol, Cinch, Korn e Slanish o Slanish come dice qualcuno e poi vedete il manuale ovviamente con tutte le regole del gioco gli equipaggiamenti e tutto quello che c'è da sapere insomma un manuale disumano pieno zeppo di cose pieno zeppo di immagini e con tutta l'ambientazione di Urammer 40.000 transfer sheet per attaccarli direttamente sulle miniature un sacchetto con tutte le basettine e altre basi per le miniature più grandi non mi sembra di aver visto da nessuna parte almeno che non sia sotto misurini e misuratori vari ma da quello che ho visto vi basta ragazzi un reghello o un metro perché le misurazioni lo sapete sono in pollici o in centimetri su Urammer 40.000 quindi comunque o in casa chiunque ce l'ha questa è la roba che c'è all'interno ragazzi ve l'ho fatta vedere un po' così e prossimamente vi ci farò direttamente un video io spero anche dei gameplay però più che altro un video per spiegarvi le nuove regole di Urammer 40.000 vi ricordo primo link in descrizione in sovrimpressione ordinatelo dalla giocolibreria Semola col codice sconto discount Coridan7 tutto maiuscolo 7 numero perché sono in esaurimento e la GV non le ristabberà quindi fine esaurimento scorti ordinatela non pagate né spese postali in tutto il mondo vi arriva a casa in 24 ore in più con codice sconto Coridan7 ci avete uno sconto del 7% insomma ragazzi spettacolo lunga vita la GV è Urammer grazie giocolibreria Semola e grazie a Corrado ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti